La Biblioteca Nazionale di Firenze ha sede in un edificio inaugurato nel 1935, ma la sua origine risale al 1714, quando Antonio Magliabecchi donò la sua libreria privata alla cittadinanza. Unita alla Biblioteca Palatina nel 1861, nel 1885 assume la qualifica di Biblioteca Nazionale Centrale. Possiede oltre 6 milioni di volumi, 3 milioni di opuscoli, 430 mila titoli di seriali, 25 mila manoscritti e quasi un milione di autografi. E' inoltre ricca di raccolta di musica stampa e di risorse grafiche. Grazie al deposito legale esercita il controllo bibliografico sulle pubblicazioni italiane, realizza la Bibliografia Nazionale Italiana, cura gli strumenti impiegati nell'indicizzazione del soggetto, si occupa di risorse digitali e dà la loro conservazione nel lungo periodo. Con la Biblioteca Nazionale di Roma è uno dei principali poli del Servizio Bibliotecario Nazionale.